Ciao a tutti, sono Marco Casario, benvenuti a questo episodio un po' diverso dal solito, dagli standard, del 10 Minutes Live Trading, seconda edizione. Passato un po' di tempo, sicuramente vi sarete chiesti che fine avevo fatto, anche se sapevate che ormai il percorso era finito, l'obiettivo era raggiunto. Ho aspettato un po' perché volevo registrare questo video nel momento in cui avevo in mano quello che ha fatto partire l'obiettivo del corso, ovvero l'iPhone 7 Plus che mi sono andato a comprare, per il quale avevo cominciato appunto il percorso con l'obiettivo di guadagnare la cifra che mi avrebbe permesso di comprarmelo facendo trading, trading che ho fatto in diretta davanti ai vostri occhi durante i webinar live. Ci ho messo circa un mesetto a fare il... alla fine penso di aver raggiunto circa il 15% del profitto sul capitale che avevo, operavo con un capitale di 10k, 10.000 euro. E finalmente sono riuscito ad averlo, ho dovuto aspettare un po', l'ho dovuto preordinare. E tra l'altro lo scarto insieme a voi perché è ancora totalmente nuovo. Non so se la macchina riuscirà a mantenere il focus sia su di me che sul cellulare. Non l'ho ancora tenuto in mano, tra l'altro, fatemi guardare se dentro non ci hanno messo un mattone. L'ho ordinato ovviamente all'Apple Store. E no, è esattamente quello che volevo. Alla fine mi sono preso il Jet Black come colore e ho preso il 256 giga, quindi il top di gamma, perché come sapete avevo guadagnato un po' di più. L'obiettivo era di guadagnare 1050 euro. Alla fine chiudendo le operazioni ne ho guadagnate più di 1500-1550. Quindi ho preso il modello da 1200 euro di Apple, appunto era l'ultimo modello, quello più capiente, 256 giga. E i soldi che mi avanzano, circa 400 euro, li userò per fare una donazione ad un'associazione che si prende cura di animali. Anzi, io già l'ho individuata, però tendenzialmente faccio donazioni piuttosto di frequente, quindi se avete qualche associazione da sottopormi o da consigliarmi di cui conoscete l'affidabilità, fatevi pure sentire. Bene, il Terminus Live Trading è terminato, almeno questa seconda edizione. Ne farò una e ne organizzerò un'altra, perché come al solito cose che mi servono, cose da comprare, ce ne sono sempre tante e soprattutto adesso dovrò cominciare a raggiungere il mio prossimo obiettivo che mi servirà per le prossime, la futura vacanza che farò, che come al solito sarà una vacanza importante. Non so ancora in quale paese, probabilmente qualcosa dell'America del Sud, che è un paese che mi affascina molto e dove sicuramente vorrò approfondire. Quindi aspettatevi che a breve, sicuramente con l'inizio del nuovo anno, inizieremo un nuovo percorso, ma nel frattempo quello che volevo anche dirvi è che, non so se vi è arrivata comunicazione, se mi seguite su Facebook o sui social, già lo sapete, ho aperto da pochissimi giorni le iscrizioni per il corso di trading online che finalmente, dopo mesi e mesi che lo preparavo, sono riuscito a lanciare. Quindi troverete, in questo video vedrete l'indirizzo dove potrete collegarvi, lì troverete tutte le informazioni, il programma didattico, la durata, sarà un percorso composto da quattro mesi, quindi sviluppato su quattro mesi il programma didattico è veramente completo, partirà da zero con proprio le basi del trading, quindi i mercati finanziari, gli strumenti finanziari, andremo ad analizzare i vari mercati per poi passare all'analisi tecnica classica, l'individuazione di un trend, tutti i pattern di analisi tecnica classica e i pattern armonici, andremo a vedere Fibonacci e il trading fatto con Fibonacci e in questo percorso passeremo anche a strumenti finanziari come le opzioni, piuttosto che il trading automatico, davvero un percorso completo e devo ringraziare anche voi, perché? Perché è frutto questo percorso didattico, questo programma didattico che ho tirato giù, anche di tutti i feedback di più di 100 persone che insieme a me hanno contribuito a creare, dal punto di vista proprio di argomenti inseriti nel programma, a creare questo percorso così completo e così definitivo. Quindi se vuoi applicare le strategie, perché in questo corso vi fornirò anche tutte le strategie che utilizzo e ho utilizzato anche durante il 10 Minutes Live Trading, ne vedremo molte di più di quelle che avete visto in diretta, con regole meccaniche, quindi con regole precise che potrete applicare in maniera totalmente autonoma ed indipendente alla fine del corso. Insomma, è veramente un percorso completo e sono sicuro che chi parteciperà poi sarà in grado di seguire in maniera decisamente più completa gli appuntamenti del 10 Minutes Live Trading, della terza edizione del 10 Minutes Live Trading. Quindi per ora non faccio altro che augurarvi una fantastica festa di Natale, un fantastico Capodanno e un inizio di 2017 ancora migliore, che potrebbe essere, se vorrete approfondire la materia del trading, potrebbe essere davvero un anno di svolta, perché, ripeto, con questo corso, partendo da zero, in quattro mesi costruirete delle fondamenta davvero solide per cominciare a diventare un trader professionista. Quindi potrebbe veramente essere un anno ricco di sorprese e di avvenimenti. Ancora, grazie mille per avermi seguito, noi ci sentiamo presto via mail, newsletter di analisi tecnica sul canale YouTube o sul gruppo 10 Minutes Trading di Facebook. Per ora è tutto, ancora buon Natale, buone feste e a presto. Ciao!